Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi un altro video declutter perché se mi seguite su Instagram sapete che, ora non so quando pubblicherò questo video, ma ieri barra l'altro ieri ho pubblicato dei profumi in vendita perché su Vinted io di solito metto in vendita i profumi di cui ho ancora la scatola su Instagram invece quelli dove non ho più la scatola perché come sapete Vinted non permette di vendere i profumi senza scatola. Va beh, questa è un'altra parentesi, ne abbiamo già parlato, sapete cosa ne penso comunque questo è il discorso e quindi mi è venuto in mente che era da un po' che non vi facevo vedere tutti i profumi che ho venduto negli ultimi mesi. Voi sapete che la mia collezione è sempre in movimento quindi io costantemente sto vendendo e acquistando profumi. Spesso e volentieri spendo anche soldini miei ovviamente per prendere altri profumi nuovi, ma la maggior parte dei profumi che acquisto li acquisto grazie a profumi che ho venduto, quindi è sempre un po' un riciclo di profumi. In più io sono una persona un po' sensibile alla testa, quindi spesso mi viene mal di testa e nausea a volte per colpa di un profumo, a volte a prescindere da che profumo indosso, però se un giorno particolare in cui sto indossando un profumo particolare mi viene mal di testa o nausea, anche che ovviamente non c'entri niente il profumo che sto indossando ma mi viene a prescindere, io quel profumo farò molta fatica a utilizzarlo più avanti perché ogni volta che lo porterò mi ricorderà quel momento e mi farà venire nausea. Quindi questo è un po' un mio problema, quindi spesso vedete che io vendo profumi di cui vi ho già parlato, che mi piacciono, che amo, ma se però mi hanno dato questo problema io veramente non riesco più a indossarli, quindi quando vedete che vendo profumi di cui vi ho parlato, che vi ho consigliato, non prendetevela e non pensate che adesso non mi piacciono più, semplicemente probabilmente è uno di questi motivi. Inizio facendovi vedere quelli che invece ho venduto su Vinted ultimamente. Ho venduto Idol Le Parfume Classico di Lancome. Come sapete io avevo sia Idol Classico che Idol Aura, ma ho deciso di tenerne solamente uno dei due. In realtà non è il primo che vi capiterà di oggi, di questo stile che ne avevo più flanker e ho deciso alla fine di tenerne solamente uno. Quindi tra Idol Aura e Idol Classico ho deciso di tenere Idol Aura, semplicemente perché è una punta più particolare e niente, in più ho anche dei bei ricordi con quel profumo, mentre Idol Classico che era ancora pieno l'ho deciso di vendere. Allo stesso modo ho venduto due Chloe Nomad. Io avevo tutti e tre, avevo il Eau de Parfume, Absolute Parfume e Eau de Parfume Naturelle. Ho deciso di tenerne solamente uno, quello che mi piaceva di più, cioè Absolute Parfume. Quindi ho venduto sia il classico Eau de Parfume che Eau de Parfume Naturelle. Ho venduto Rouleau di Tamburi, Love d'Ambichai di Kilian e lo so che alcuni di voi mi hanno scritto, mio Dio come hai fatto a venderlo. Lo so, però anche qui c'è stato lo stesso identico problema, quindi è un profumo che a me piace molto, ma che l'ultima volta che l'ho indossato mi ha dato una forte nausea, quindi tutte le volte successive che volevo indossarlo e annusavo semplicemente la confezione senza neanche spruzzarlo, mi iniziava a venire mal di testa e mi iniziava a venire la nausea. Quindi ho dovuto per forza venderlo, perché so che non l'avrei mai più usato e preferisco sinceramente che se lo goda qualcuno che non ha i miei problemi, quindi l'ho venduto. Ho venduto anche il Narciso Pudret e questo non pensavo di venderlo in realtà, ma anche questo mi ha dato il mal di testa, quindi purtroppo mi piaceva, non era di sicuro il mio preferito di Narciso, assolutamente no, ne ho altri che preferisco mille volte di più, quindi già lì stavo già pensando di metterlo in vendita. Poi quando ho iniziato a darmi mal di testa è stato un po' il plus. Ho venduto Eilish di Billie Eilish e come sapete vi avevo anche parlato in un video di questo profumo, del fatto che la boccetta è una delle boccette più belle che abbia mai visto e volevo tenermelo solamente come confezione da decoro, il problema è che sapevo che non l'avrei mai usato, perché su di me, quindi so che non è così per tutti ma come al solito io parlo delle mie esperienze, su di me aveva l'esatto odore di qualsiasi altra acquetta profumata di Victoria's Secret ai frutti rossi e alla vaniglia, non era niente di particolare e quindi ho deciso di darlo a qualcun altro che magari l'avrebbe apprezzato di sicuro di più, mi è dispiaciuto molto però sapevo che l'avrei tenuto solamente per la confezione e non so quanto ne valga la pena. Sempre nel video delle novità avevo parlato di altri due profumi che poi ho deciso di vendere, uno è Flower Bomb Ruby Orchid e io adoro il Flower Bomb classico ma questo Ruby Orchid mi ha ricordato troppo il Flower Bomb Nectar che anche quello l'ho venduto immediatamente dopo, ero super esaltata di questo profumo perché leggevo appunto vaniglia, pesca, pensavo che fosse una cosa buonissima, su di me era chimico da morire, allo stesso modo di Flower Bomb Nectar che sapevo letteralmente, non lo so, da catrame, da plastica bruciata, proprio un odore cattivo su di me, l'ho sentito su altre persone ed era buono ma probabilmente il pH della mia pelle funziona così, quindi l'ho venduto perché veramente l'ho provato penso due volte ed entrambe le volte sono dovuta correre in giro per cercare di levarmi il profumo di dosso perché non ne potevo più. Ho venduto un altro IDOL, mi ero dimenticata di questo, e questo è l'IDOL Nectar, quindi quello appena è uscito. L'ho venduto perché anche qua preferivo l'altro IDOL, questo non era niente di che, mi sembrava uguale a tanti altri profumi designer già sentiti, non era niente di speciale, niente di particolare, avevo questa nota di popcorn un po' particolare ma che io sinceramente la sentivo i primi 5 minuti, poi basta e diventavo un qualsiasi fiorito fruttato dolcino, quindi no. I prossimi che ho venduto non mi ricordo se li avevo già insediti nello scorso video, ma li dico in velocità perché non credo, però appunto non sono sicura, se mi ripeto scusatemi. Ho venduto John Malone Dark Amber and Ginger Lily, questo l'ho venduto perché sulla mia pelle risultava molto simile al Versace Crystal Noir e sulla mia pelle dura di più il Versace, per questo John Malone su di me durava veramente poco, quindi ho deciso di tenermi l'altro e vendere questo. Ho venduto Fancy di Jessica Simpson perché per quanto sia un buon profumo designer, di sicuro uno dei migliori che ho mai sentito, per me non è niente di che, era un'altra vaniglia dolcina, niente di particolare, quindi l'ho dato via. Ho venduto The Only One Intense di Dolce Gabbana, quello ho deciso di venderlo perché sulla mia pelle risulta molto simile al Rouge Malakit di Armani Privé e preferisco quello, quindi ho venduto Dolce Gabbana mi tengo all'Armani. Ho venduto Another Thirteen di Lella Boe, questo mi è un po' dispiaciuto però non aveva senso per me tenerlo perché ho Arizona Bloom di The Sevent Virtues che è veramente simile e averne due di uguali no, quindi ho deciso di vendere quello che costava di più, così da riprendermi un po' di soldini e tenermi l'altro. Questi erano tutti quelli venduti su Vinter gli ultimi tre mesi, ora passiamo a quelli invece che ho ancora qui, alcuni li ho già venduti ieri, barra l'altro ieri a seconda di quando guardate questo video su Instagram, quindi oggi farò i pacchettini e li andrò a spedire, però ve li voglio comunque far vedere, altri invece date un occhio al mio Instagram che magari saranno ancora disponibili. Ho deciso di vendere Mont Paris di Saint Laurent, questo è l'eau de toilette, è un 100ml ed è praticamente pieno perché l'ho usato due volte, quindi come potete vedere la boccetta è praticamente piena. Questo profumo a me piace molto, è molto femminile, molto giocoso, sa quasi da estratto di frutta fresca, macedonia, di frutta, di frutti rossi, però ho notato che in tutta l'estate, perché questo l'avevo preso questa primavera o fine inverno, ho notato che in tutta l'estate forse l'ho usato una volta, quindi mi sono detta ok, è buono buono, ma probabilmente non è comunque il mio stile, quindi preferisco che ce l'abbia qualcun altro, anche perché so che non lo userei questo inverno, quindi lo dovrei tenere fermo fino all'estate prossima per provare ad utilizzarlo e non ha senso. Ho messo in vendita a drop di 6 di 6 Miyaki e questo l'ho messo in vendita perché quando mi è arrivato ero super esaltata, ma avevo ancora un altro paio di campioncini da finire. Prima di aprire questo ho detto vabbè, provo un altro paio di campioncini, dato che li avevo. Purtroppo i Demo con patate hanno cominciato a darmi il mal di testa, il che mi dispiace tantissimo perché mi piaceva tanto questo profumo, però sì, ho notato che appunto non l'ho mai portato. Penso di questo e di averlo spruzzato forse una volta, massimo due spruzzate proprio, infatti come vedete è pienissimo e questo è un 50 ml, quindi se vi dovesse interessare questo mi sembra che sia ancora disponibile su Instagram. Ho messo in vendita Whispers in the Library di Replica e lo so che è un po' uno shock per voi perché come sapete io amo questo marchio e amo anche questa versione, però c'è da dire che ho diversi profumi nella mia collezione che hanno questo stile e questo purtroppo su di me dura veramente poco. Ho sentito persone che dicono che su di loro dura comunque abbastanza e lo sentono, io divento anosmica quasi immediatamente a questo odore e quindi dopo mezz'ora quasi non lo sento più, però vi consiglio comunque di provarlo perché può essere che su di voi invece duri. Quindi questo appunto l'ho messo in vendita, anche qui è quasi pieno e me ne manca veramente poco, penso che ne manchino 3-4 ml non di più e niente, mi dispiace perché faceva parte della mia collezione di replica però ho proprio visto che era da una vita che non l'utilizzavo. Ho già venduto manifesto di Yves Saint Laurent, infatti adesso andrò a fare il pacchettino e questo in realtà anche qua mi è dispiaciuto venderlo perché è un fuori assortimento, teoricamente non è più disponibile questo profumo da quanto mi ricordo, questo è l'eau de parfum, è un 50 ml come potete vedere pressoché pieno, ne mancheranno appunto 2 ml probabilmente e è un profumo molto buono, è una vaniglia legnosa leggermente verde però su di me puntava in modo strano, non lo so, so che tante persone lo amano, infatti sono contenta di aver trovato una casetta per lui perché io veramente ce l'avevo da un po' da qualche mese e non lo utilizzavo, veramente l'ho usato poche volte, mi piace ma non mi ha mai convinta del tutto e quindi l'ho subito tenuto la parte per dire vabbè lo venderò prima o poi e quindi sono super contenta di che qualcuno l'ha voluto comprare. Ho messo in vendita e già venduto Gold Couture di Juicy Couture, anche questo profumo a me piace tanto però ecco ho altre vaniglie dolcine simili, non lo so preferivo comunque andasse a casa di qualcun altro che magari qualcun altro lo può apprezzare qui di me perché appunto io ce l'ho anche questo qui da un po' di tempo ma veramente l'ho utilizzato un po' 2-3 volte, le prime volte che l'ho acquistato dopo lo andavo ad annusare ogni tanto ma lo utilizzavo poco perché su di me è una scarsa durata. Però anche qua so che invece alcune persone dicono che su di loro dura un botto di ore quindi come al solito dovete sempre provarli. Darò via anche Fleur d'orchidee di Karl Lagerfeld, questo come sapete è un dupe di Soleil Blanc di Tom Ford, veramente veramente simile. Purtroppo anche questo come il Tom Ford dura poco però questo qui costa tipo 10-15 euro il Tom Ford 250 quindi direi che vi conviene comunque prendere questo a prescindere dalla durata, questo lo potete rispruzzare 50 volte e dato che io ho il Tom Ford non me ne faccio niente di un dupe darò via anche questo. Ho già venduto il Mon Guerlain di Guerlain e anche qui come parlavamo del Chloé, Idol eccetera, come sapete io ho sia questo che la versione intense, mi sono resa conto che la versione intense la utilizzavo, questo veramente non l'utilizzavo mai e quindi ho deciso tra i due di tenere le intense invece vendere il classico Mon Guerlain. Mi piace molto come profumo però su di me questo punta tanto lavanda, è quasi una lavanda però aromatica che su di me non è proprio il massimo però sono sicura che andrà tra le mani di una persona che lo potrà apprezzare. Darò via anche Soft di Al Rehab, questo profumo ve ne avevo già parlato in uno dei miei video di profumi economici, questo è veramente simile a Pink Sugar di Acquolina, praticamente un dupe, lo trovate su Amazon a un prezzo molto molto economico, molto buono come profumo, sta proprio anche qua di zucchero filato, abbrustolito quasi di marshmallow, di frutti rossi, molto molto piacevole e appunto darò via anche questo perché è uno stile che io non porto. Ho messo in vendita Tom Ford Velvet Orchid e lo so che la volta scorsa avevo messo in vendita il Black Orchid, adesso invece il Velvet perché semplicemente io come sapete ho una versione mini size del Black e quindi quella volta avevo venduto la full size perché non me ne facevo niente. Da quel momento io non ho mai utilizzato neanche una volta questo profumo, è sempre rimasto fermo lì. Non lo so, mi sono un po' presa conto che non è uno stile che io indosso particolarmente. Non lo so, mi piace annusarlo, mi piace l'odore che ha, però poi ho visto che l'ho veramente utilizzato forse due volte, infatti penso che ne manchino anche qua 2 ml al massimo e in più continuo ad avere quel travel size del Black Orchid, quindi se proprio dovesse venirmi voglia di utilizzare uno di quelli ho quello lì e questo qui preferisco darlo a qualcun altro. Bene, questi erano tutti i profumi che ho messo in vendita o che ho già venduto negli ultimi 3-4 mesi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi interessa qualcosa guardate il mio Instagram, se vedete che le storie sono ancora disponibili nella sezione vendo delle storie in evidenza del mio profilo, allora scrivetemi. Se non le vedete più vuol dire che le ho già vendute, quindi non posso aiutarvi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio e buona giornata.